Siamo dato Gesù Cristo e avanti con Maria. Carissimi amici di Radio Domina e TV Domina, bentrovati a tutti voi in questa sera della seconda domenica di Quaresima, la domenica della trasfigurazione. Questa sera il tema che trattiamo è un tema assolutamente significativo come avete già visto nel titolo del programma del Palincesto pubblicato stamattina. L'incredibile e profetica storia delle apparizioni di Avola. Avola è un paese in provincia di Siracusa, nel profondo sud della Sicilia e poi abbiamo sottotitolato La Madonna del Pino perché così lì in quel luogo la Madonna ha voluto farsi chiamare è Giuseppe Auricchia che è il protagonista unico di questa straordinaria storia delle apparizioni ad Avola. Iniziate ufficialmente il 24 luglio 1990 e conclusesi più o meno con la morte di Giuseppe Auricchia. Giuseppe Auricchia è morto nel 2012 un anno prima che iniziasse l'impostura della farsa chiesa capeggiata da Bergoglio di cui la Madonna ha parlato a Giuseppe Auricchia già nel 2008 se non ancora prima. Ma procediamo con ordine in questa storia. Vorrei anzitutto lanciare un messaggio anzi due che sono i seguenti. Il primo messaggio. Stasera io parlo della Madonna del Pino, della Madonna Diavola, delle apparizioni a Giuseppe Auricchia e mercoledì prossimo 20 marzo, lo dico per gli amici che ascoltano Radio Domina e TV Domina e che si trovassero da quelle parti, mercoledì prossimo a Dio piacendo alle 11 e 30 del mattino mi troverò in quel posto dove è apparsa per anni la Madonna e non solo la Madonna come ora vedremo ma anche vedremo anche Gesù, soprattutto Gesù e poi anche San Michele Arcangelo e così via. Ecco io mercoledì prossimo andrò lì. Mi sono sempre chiesto come mai la Madonna per quello che riguarda la Sicilia è apparsa in questi ultimi tempi nella Sicilia orientale. Cito tre posti. Siracusa dove ha pianto e poi c'è anzi quattro posti. Siracusa e poi Belpasso in provincia di Catania c'è Avola che fra tutte però è la più importante come ora vedremo e poi anche c'è via in corso di realizzazione. Ne ha parlato anche René Laurentin nel suo libro e c'è dunque in provincia di Messina Pina di Giampilieri. Ecco come mai quella zona lì? Perché quella zona lì è una zona ad alta concentrazione massonica. Ecco soprattutto ad Avola ma infatti lo dico già da adesso fiolicari quanti mercoledì prossimo vi collegherete per la diretta alle 11 e 30 con la recita del rosario ad Avola dove è apparsa la Madonna del Pino a Giuseppe Oricchia con messaggi assolutamente straordinari perché in tempi non sospetti lì la Madonna e Gesù hanno detto a Giuseppe Oricchia che Benedetto XVI sarebbe pervenuto alle dimissioni lo dice nel 2008 questo la Madonna e che dopo di lui sarebbe arrivato l'impostore. Questo è sotto gli occhi di tutti noi ecco non poteva inventarselo questo agricoltore questo contadino con la quinta elementare che di cose di chiesa ne sapeva ben poco. Ecco e lì non c'è più niente praticamente lo vedremo mercoledì prossimo e non c'è più niente ad Avola dove è apparsa madonna e la contrada mammanelli non c'è più nulla c'è soltanto da quel che so una diciamo piattaforma peraltro anche abbastanza abbandonata perché evidentemente i poteri occulti lavorano per fronteggiare le apparizioni madonna. Comunque Avola di fatto condivide la sorte più o meno di tutte le apparizioni mariane del novecento. Se voi andate in giro per l'Italia anche l'ultima vicenda relativa per esempio a Ghiaie di Bonate rivela questa cosa qui. Constat de non soprannaturalitate conclude adesso di recente il vescovo di Bergamo cioè non sono vere le apparizioni. Non c'è stata una sola apparizione mariana del novecento riconosciuta in Italia e la Madonna è apparsa dappertutto in Italia capito perché questi sono i tempi in cui satana sferra l'attacco finale perciò anche sono i tempi di Maria ecco perché praticamente sì Marco Succi Leonelli ti saluto intanto con grande affetto so quanto lotti per rimanere fedele al piccolo resto e ti assicuro la mia preghiera per le chiese sataniste che si aprono a Bologna Ferrara ma ormai è il tempo dello scontro finale dappertutto il satanismo è presente anche qui da noi in Sicilia coraggio la corona del rosario tra le mani e la nostra arma ecco allora qualcuno mi chiede forse Antonella Lavanco anche dove troviamo notizie sulla Madonna del Pino Diavola ecco anzitutto io do due fonti c'è il sito su internet www.madonnadelpino.it e lì ci sono tutti i messaggi della Madonna dall'inizio fino ai nostri giorni ecco le apparizioni si sono concluse presa poco con la morte di Giuseppe Auricchia che è avvenuta nel 2012 un anno prima che Benedetto XVI si dimettesse e le apparizioni mi pare che ne abbiamo parlato peraltro la settimana scorsa confermano confermano quello che poi è accaduto ecco allora stavo dicendo quindi che lì non c'è nulla e quindi la prima fonte è www.madonnadelpino.it ma poi c'è questo libro qui ecco che si chiama Maria Madonna del Pino sottotitolo le apparizioni a Giuseppe Auricchia questa è la statua della Madonna che si trovava lì perché ripeto ormai non c'è più nulla lì c'è stata una croce come vedremo che ha trasudato olio che ha fatto anche un miracolo clamoroso c'era la statua questa statua c'è più nulla non c'è più nulla per questo io vado vado proprio a riparare l'affronto che i poteri forti cercano di portare avanti contro la Santa Vergine Maria e questo libro è scritto da Nino Oliva che saluto con affetto sono certo che starà seguendo la diretta lui è stato un collaboratore negli ultimi anni di proprio di Pino di Giuseppe Auricchia e il cielo gli ha proprio suggerito di scrivere questo libro qui io ho chiesto di farmene avere un paio di copie perché possiate quello che lo volete averle ecco perché veramente è un libro fatto molto bene queste sono le due fonti diciamo attendibili che abbiamo a disposizione l'altra cosa che però volevo anche dire a tutti voi carissimi è che la settimana successiva da lunedì 26 e fino al venerdì successivo mi pare 29 o 30 io sarò in giro per l'Italia insieme a Don Enrico faremo quattro tappe quattro tappe certo Pippi Rizza non so chi sei ma va certo chi vuole può venire lì ci troviamo ad Avola nel luogo delle apparizioni alle 11 e 30 del mattino è ovvio che è aperto a tutti quelli che vogliono venire a pregare il rosario in quella contrada abbastanza diciamo così abbandonata ecco abbastanza abbandonata stavo dicendo che la settimana successiva pertanto Don Enrico e io saremo insieme per quattro tappe per le confessioni sacramentali e anzitutto in provincia di Napoli lunedì sera lunedì pomeriggio poi saremo martedì a Roma giovedì mi pare a Bergamo e venerdì se non ricordo male a Verona ecco però nei prossimi giorni per tutti voi potrete appunto vedere il programma di questo itinerario benissimo dopo quest'appia introduzione andiamo adesso alla storia come ho detto io incredibile ecco ringraziamo intanto Francesca Barsotti che si premura per tutti noi di suggerire il ecco Nino Liva soprattutto che è appunto uno degli esperti ciao Nino e grazie del libro che hai scritto l'ho letto in poche ore e l'ho trovato veramente molto ben fatto hai fatto un ottimo lavoro lui offre appunto in questo momento l'indirizzo esatto del sito dove si trovano tutti gli incredibili messaggi della Madonna e di Gesù a Giuseppe Auricchia un Giuseppe Auricchia assolutamente perseguitato dalla gerarchia ne ha viste di tutti i colori il suo parroco lo ha perseguitato fino alla fine non ha mai creduto alle apparizioni e dovete sapere che Giuseppe Auricchia si è sottoposto due volte a perizia psichiatrica perché il vescovo al tempo delle prime apparizioni lo considerava un matto un pazzo non ha scritto mai nulla di ufficiale ma girava ecco ecco Betti vi dice che tra l'altro il libro c'è su Amazon mi pare su ibc www.ibc non so cosa sia comunque ecco lo potete trovare stavo dicendo che il vescovo girando per le parrocchie lo diceva ai fedeli quello che adesso succede con me con tutti gli apostoli di Maria va così in un modo o in un altro siamo matti cosa ha scritto il vescovo di Morreale senza inchiesta senza questo non l'ho mai detto non ne parlo quasi mai ma sono conti aperti col cielo non è che questi vescovi la fanno franca perché se c'è se c'è il dito di Dio vi ricordate Gamaliele quando il sinedrio vuol far fuori gli apostoli cosa dice Gamaliele calma non vi accada di combattere contro Dio se quest'opera non viene da Dio morirà se invece viene da Dio diversamente nonostante tutti gli ostacoli andrà avanti è quello che sta accadendo a noi c'è chi si stupisce che Don Minutella vada avanti non c'è da stupirsi perché io non vado avanti di mio è la Madonna che mi manda avanti capite perché se un'opera viene da Dio può conoscere tutti gli ostacoli di questo mondo ma va avanti capite anzi più è un'opera che deve fare il bene alle anime e più Satana si accanisce per disturbarla Giuseppe Auricchia il vescovo di allora Monsignor Nicolosi lo fece passare per matto capito lo fece passare per matto e allora Giuseppe Auricchia si è sottoposto di sua iniziativa a una perizia psichiatrica e ha fatto pervenire alla curia alla quale mandava peraltro sempre tutti i messaggi senso veramente ecclesiale profondo probabilmente la Madonna e il cielo gliel'avranno suggerito ecco e beh Marco se stiamo a discutere di quelli che parlano male di me o di noi figurarsi non la finiamo più concentriamoci invece su questa storia straordinaria che vorrei presentarvi entro i tempi stabiliti vi stavo dicendo che lui faceva pervenire sempre tutti i messaggi alla curia vi dicevo di me che il vescovo di Monreale ha scritto che io sono ingannevole e forviante ora chiunque abbia un minimo di decoro dico umano non cristiano dovrebbe poter dire un momento vescovo ma te hai fatto un'indagine hai aperto un'inchiesta hai ascoltato i test hai verificato quali sono i frutti perché se si prega no se ci si confessa si aumenta la fede ma è esattamente quello che questi vescovi collusi con la massoneria non vogliono perché gli viene detto loro di spegnere tutte le iniziative che il cielo viene ad accendere non ci sono riusciti con Meggiugori infatti la manipolano per altre vie capito ecco e quindi ingannevole addirittura il vescovo di Monreale nel mio caso dice ingannevole quindi giudica per che cosa quello che non può fare un vescovo non può mai come nessun altro giudicare la tua intenzione al limite per altro senso inchiesta può dire forviante cioè voglio dire per lui vescovo queste locuzioni tutto quello che io vivo a piccola Nazareth ho vissuto a piccola Nazareth le locuzioni non sono vere quindi forvianti ma non può scrivere in un documento ufficiale ingannevoli perché quando dice ingannevoli sta giudicando la mia intenzione e non può farlo l'intenzione la conosce solo Dio questa è profanazione capite l'intenzione con cui io ho parlato delle locuzioni ho raccontato dell'acqua che è sgorgata e tutte le altre cose la può conoscere solo Dio non il vescovo di Monreale che per giunta non mi ha mai ascoltato su queste cose ma questo è il procedere della chiesa il vescovo di Bergamo come diceva oggi nella messa vi ricordate ieri o oggi non spegnete lo spirito non disprezzate i carismi le profezie ma è quello che l'episcopato fa loro hanno costruito una chiesa falsa secondo la loro visuale e la Madonna viene a rompergli le scatole capito? ecco Giuseppe Auricchia una prima volta ha presentato l'aperizia psichiatrica dove è risultato sano di mente e delicatamente perché era un uomo un po' burbero da come me l'hanno discritto altri ma anche molto spontaneo ecco e ha presentato genuino potrei dire ha presentato l'aperizia psichiatrica al vescovo di Noto perché Avola rientra nella diocesi nel territorio canonico di Noto nella diocesi di Noto e il vescovo non ne ha tenuto conto ha continuato a sostenere che era matto ma e questo fanno i vescovi no? è un'esperienza che sto vivendo anch'io la falsa chiesa questo fa di fronte all'evidenza continua a ostinarsi è una perizia psichiatrica a cui si è sottoposto Giuseppe Auricchi anche con il vescovo Canterino di Noto l'attuale vescovo Canterino quello che suona la chitarra no? e va a Sanremo con Sor Cristina sapete Sor Cristina no? Laica Virgin che belle immagini di suore che fanno le corne e cantano come una vergine ma io veramente dico mamma ma dove siamo arrivati? il vescovo Canterino di Noto Monsignor Stajanò ha avuto da Giuseppe Auricchia ormai molto anziano un ulteriore referto psichiatrico dal quale emergeva che Giuseppe Auricchia era sano di mente ebbene ancora una volta per la seconda volta è pervenuto alla curia di Noto ora voi volete sapere volevo dirvi secondo voi lo Spirito Santo può continuare ad operare attraverso queste pesanti strutture canoniche e gerarchiche scordatevelo scordatevelo dice Gesù lo Spirito soffia dove vuole e quando Gesù dice le porte degli inferi non prevarranno non si riferisce certamente alla falsa Chiesa che oggi governa che spegne le profezie si riferisce al cattolicesimo vero autentico capite alla Chiesa vera alla sua Chiesa non a quella di Satana perché quella di Bergoglio è la Chiesa di Satana non è che si possono avere dubbi non si possono avere dubbi la Chiesa di Bergoglio è la Chiesa di Satana portate qui persone possedute da Satana in mia presenza senza che io farò nulla e a me è già stato rivelato che i demoni in mia presenza saranno costretti a dire che ho ragione ma siccome questi sono dei farabutti peggiori di Satana diranno che mi sono messo d'accordo mi sono messo d'accordo preventivamente col diavolo no? ecco bene questo per dirvi il quadro d'insieme ha sofferto molto Giuseppe Auricchia moltissimo forse è stata la sofferenza più di ogni altra questa barriera a tutti i costi perché lui ha cercato un dialogo con la gerarchia capite? ha cercato anche la Madonna glielo diceva ha cercato in tutti i modi di aprire un dialogo almeno un dialogo c'è stato un intermezzo tra Monsignor Nicolosi e Monsignor Stagliano quello in mezzo adesso non mi ricordo Malandrino mi pare che fosse eh? Crociata bravo Monsignor Crociata che invece Razzingeriano doc di un certo stile e invece con Monsignor Crociata eh? con Monsignor Crociata che è durato poco a noto Giuseppe Auricchio ha goduto per qualche tempo di un certo diciamo non so come dire di un tempo di tranquillità ecco Giuseppe Auricchia è nato nel 1916 ed è morto nel 2012 poco prima che si avverassero le profezie di cui la Madonna e Gesù gli parlano è un agricoltore con la quinta elementare sposato padre e nonno e adesso io vi darò un paio di notizie e poi andiamo ai messaggi cominciamo con l'esordio io mi sono scritto qui dunque due quattro sei otto dieci introduzioni l'introduzione non può essere una una deve essere io mi sono trovato dieci introduzioni vediamo se riesco poi a portarvi ai messaggi prima introduzione l'esordio vediamo come ha iniziato tutto nella vita questo carisma sorprendente però Nino Liva mi dice che era Mosio Malandrino non Crociata allora grazie Nino ripeto Nino Liva non lo conoscete un uomo diciamo del sud della Sicilia che si è occupato per molto tempo e con grande impegno e lo ringraziamo perché grazie a lui anche è venuto fuori questo libro altrimenti diciamo oggi si sarebbe perduto del tutto il messaggio di Avola dove ripeto mercoledì prossimo io mi recherò a recitare il rosario in diretta su Radio Domina alle 11.30 e allora così narra lui stesso l'inizio degli avvenimenti guardate che bella storia era il 23 agosto del 1989 quindi piuttosto lontano nel tempo 1989 ecco e questo è l'esordio periodo di raccolta delle mandorle ero in campagna e tornavo al caseggiato per la pausa pranzo e vi trovai una donna vestita di nero con un bambino vicino alla porta la salutai e le domandai cosa cercava mi rispose che era stanca e che aveva bisogno di vitto e di riposo la invitai a entrare nel caseggiato quella era la madonna se non l'aveste capito e le portai il pane il companatico della mia colazione sopra il tavolo le dissi che potevano consumare tutto e che di fronte c'era la stanza da letto per riposare un po' dove non sarebbero stati disturbati né lei né quel bambino che lui presumibilmente riteneva essere il figlio giustamente di questa donna e effettivamente lo è poi me ne tornai al lavoro dopo un po' per il forte caldo di quel giorno mi addormentai sotto un albero di olivo di un sonno lungo e felice beato lui mi svegliai molto più tardi ritornai al caseggiato ed entrando nel cortile trovai le porte e le finestre aperte le avevo io però lasciate chiuse chiamai la signora che avevo lasciata lì a riposare dalla porta ma non ebbi risposta mi avvicinai alla camera da letto e richiamai la signora ma non ebbi risposta non c'era nessuno vedi che il letto non era stato toccato era sparita lei e il suo bambino dopo un mese ritornò di nuovo si ripete la stessa identica cosa leggo dal libro di Nino Liva così pensai che se fosse ritornata una terza volta avrei dovuto chiederle il nome il perché cerca cibo e non lo mangia chiede riposo e non riposa venne finalmente la terza volta e questi miei propositi svanirono come se qualcuno me li avesse tolti dalla testa toccando le spalle del bambino di circa sei anni di età gli dissi sei proprio un bel bambino e ne lo giai la bellezza egli mi guardò abbozzando un sorriso ma non disse nulla ecco questo è l'inizio l'esordio è la prima delle dieci introduzioni coraggio ne restano nove la seconda introduzione l'ho intitolato l'inizio delle apparizioni quindi questo è l'esordio ma non è ritenuto come spesso succede questo è che c'è sempre un preludio nelle apparizioni c'è la madonna Gesù preparano il soggetto interessato ecco il secondo la seconda introduzione riguarda l'inizio vero e proprio delle apparizioni la data ufficiale delle apparizioni ad avola è sapete che è sempre molto importante una data iniziale perché generalmente poi la festa celebra sempre l'anniversario della prima apparizione l'11 febbraio a Lourdes 13 maggio a Fatima la prima apparizione ufficiale mi fa piacere Geromina che conosci bene la storia di Avola ho capito peraltro che in Italia siccome che lui girava parecchio poi a un certo punto Giuseppe per l'Italia mentre in Sicilia veniva pressoché boicottato a causa del vescovo che lo perseguitava e lo prendeva per matto e del parroco che ha fatto anche il suo gioco veniva andava in giro per l'Italia Giuseppe Auricchia soprattutto al nord quindi probabilmente è così che molti lo hanno potuto conoscere dunque la data ufficiale dell'inizio delle apparizioni della Madonna del Pino perché del Pino perché la Madonna appariva in questo Pino ora questa storia del Pino mi permette di fare una introduzione dell'introduzione cioè il Pino non so se sapete che la Madonna Garabandal in Spagna nel nord della Spagna è apparsa anche lì su un Pino che è rimasto però lì allora colgo l'occasione per annunciare che dopo il 15 luglio ci sarà il pellegrinaggio visto che siete 430 in diretta che guiderò io ho deciso la meta che sarà Fatima però per godercelo il pellegrinaggio passiamo anche da Garabandal va bene? ecco intanto accontentiamoci di Avola la data vi dicevo è il 20 poi vi dirò tutto naturalmente questo pellegrinaggio che faremo la data è la data ufficiale della prima apparizione ecco infatti Imma pensavi anche te a Garabandal appunto perché la Madonna lì è apparsa è apparsa su un Pino ma questo Pino lì c'è ancora c'è il Pino della Madonna che è apparsa ma c'è anche il Pino di San Michele Arcangelo cosa volete in cielo ognuno si sceglie il proprio Pino ognuno si sceglie il suo Pino c'è il Pino della Madonna e il Pino di San Michele Arcangelo ma questa è un'altra storia ecco il 24 luglio del 90 racconta adesso il secondo momento dei dieci passaggi Giuseppe Auricchia racconta l'inizio ufficiale delle apparizioni stavo per chiudere il garage mentre avevo già chiuso tutte le altre porte ad un tratto ci furono tre lampi di luce allora ben inteso quando la Madonna appare o c'è il bagliore di luce come a Fatima vi ricordate cosa precede subito l'apparizione di Madonna immediatamente prima no a Fatima il tuono il tuono che è luce no mentre a Lourdes è esattamente il vento nel caso di Pino di Pino Auricchia e anche qui la luce ritornai a vedere girandomi verso l'albero del Pino ecco quello di cui abbiamo pagato poc'anzi ecco perché Madonna del Pino vidi la Madonna nella nuvola ovale ecco qui ce la descrive ma come si fa a descrivere la Madonna con tanti raggi luminosi una coroncina il manto celeste una fascia verde alla vita io tremavo come una foglia a vederla splendeva in una luce indescrivibile e qui ci dà una descrizione fisica che secondo me corrisponde anche perché in Maria Valtorta tornano questi identikit aveva i capelli castani a fil d'oro gli occhi verdi come il mare la voce era soave di un'armonia indescrivibile tremavo ancora quando lei mi chiamò e io non volevo avvicinarmi perché avevo paura capito la Madonna sa chi deve apparire si Alfredo hai ragione Alfredo bello Alfredo dice ormai i parroci si occupano di altro parlano di altre cose e fanno altre cose cioè gli immigrati i poveri l'ecologismo l'ambiente ma non sono più questi non sono più pastori in cura d'anime capite non fidatevi di loro facciano la loro strada dunque lui si avvicina perché la Madonna lo chiama con la mano si butta a terra gridando e chiedendo a Dio di farmi capire dice lui che cosa stavo vedendo allora notai che i raggi che si muovevano mi disse queste sono le prime parole della Madonna del Pino d'Avola figlio mio non temere questa volta non sono più vestita di nero vi ricordate che nelle tre apparizioni di preludio come nel passato ma di bianco candido perché questa è la mia veste non ti chiederò più il vitto su questa terra perché la mia fame è fame di anime che bello se ogni prete io ho fame di anime io ho fame di anime quando qualcuno mi avvicina o qualche giornalista mi intervista perché Don fai quello perché le anime io penso ai bambini penso ai giovani penso le anime oggi durante la messa ho avuto una locuzione interiore in cui la Madonna usava questa parola ricominciamento bisogna ricostruire la chiesa vi ricordate che questo non è poi così peregrino se il cardinal Caffarra prima di morire ha detto bisognerà ricominciare da capo soprattutto quando ha detto con pochi e anche Giovanni Paolo II intravedeva questo quando diceva negli ultimi anni della sua vita diceva bisognerà tornare come i dodici apostoli questo è il tempo capito? questo è il tempo ritornare ricominciare da capo perché la struttura vaticana è marcia è un corpo è una carcassa è una carcassa chi va lì sente l'odore di Satana c'è lo zolfo in Vaticano fanno cose brutte lì dentro si sono goduti la vita lì dentro in questi anni in una impunità che ritenevano diciamo così garantita dal diavolo stesso e mi fermo qui non vado nei dettagli e parlo anche di cardinali capite? è una carcassa non c'è più lo spirito santo ecco la Madonna si presenta dicendo fame di anime dove troveremo oggi i preti che hanno fame di anime anziché fame di potere fame di anime fame di anime questa frase della Madonna mi 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 non lo so dirvelo figlio di cari cosa volete mi sconvolge fame di anime uno per salvare le anime come diceva San Giovanni Bosco da amichi la Madonna viene perché vuole salvare le anime dal potere di Satana Satana le acchiappa le afferra e la Madonna viene per liberarle la Madonna a tutti i costi in tutti i modi viene qui appare lì su una roccia su un fiume lì dà una locuzione lì fa sgorgare l'acqua lì fa questo lì fa quello in un luogo piange in un altro luogo capito non sa più quel che deve fare perché i preti non lo fanno e allora lei la Madonna a cuore noi perché mamma ho fame di anime dice ma è una frase che io dico la dobbiamo scrivere la dobbiamo scrivere all'ingresso di quella contrada abbandonata come vedrete mercoledì prossimo fame di anime Satana ha fame di anime ma ancor più la Madonna noi siamo solo un bocconcino prelibato insomma mettetevelo in testa bocconcini prelibati o di Satana o della Madonna non c'è altra strada fame di anime fame di anime ma ormai all'anima come sapete non ci credono più no? non credono più all'anima il vescovo ossidiare di Milano celebrando un funerale di un dj che si è tolto la vita fabbo in Svizzera ha detto che l'anime è un concetto superato un vescovo sono apostati sono dei giudei scariota gli si vede negli occhi gli si vede in faccia ma la Madonna invece viene a dire ho fame di anime ecco perché ha chiesto cibo capite? un anno prima che bella questa storia di Giuseppe Auricchia non vi pare? io andrò lì mercoledì prossimo in macchina ripeterò ho fame ripeterò tutto il tempo ho fame ho fame ogni prete dovrebbe dire ho fame con questa in mano lottare come sto cercando di fare io preti sfatti scusate se mi permetto darsi da fare lottare le anime si salvano lottando bisogna strapparle al dominio di Satana la gente vive nel peccato guardate io avevo qui una coppia di fidanzati che veniva in passato sto parlando ma non qui in parrocchia quando ero parroco sapete che sono stato parroco e c'era una coppia di fidanzati che aveva i rapporti sessuali completi totali no? allora si sono venuti a confessare con me e io ho detto sia a lui che a lei e poi li ho chiamati insieme guardate io non posso darvi la soluzione se voi non fate la promessa di non unirvi più carnalmente perché è peccato mortale eh ma a noi ci piace noi ci amiamo sì ma è peccato mortale lo dice la scrittura e noi dobbiamo solo obbedire eh sì ma noi non li ho più visti per un po' di tempo non sono più venuti poi ho chiamato uno dei familiari e ha detto senti che continuava a venire ma tuo fratello che fine ha fatto? risposta della sorella ah vai in un'altra parrocchia ah con la fidanzata? sì ah ho capito e come vai non vengono più qui? la sorella mi ha detto la verità mi ha detto perché loro sono andati a confessarsi da quel sacerdote che gli dà la soluzione anzi neanche gliela dà la soluzione gli dice siccome vi amate fate la comune viva Bergoglio viva il misericordismo dice Lucifero a Satana non pare vero che quelli che dovrebbero essere protettore della fede prende le anime le getta in pasto la gente non vedeva l'ora di sentirsi dir questo di crepare nel peccato gli dà fastidio da che mondo è il mondo lo sapete il mondo non gli vuole i preti che dice è peccato è peccato è peccato ma padre io no è peccato Dio non vuole come ha detto Santa Maria Goretti vi ricordate quando il che il tale voleva violentarla lei aveva undici anni che cosa gridava a Maria Goretti no Dio non vuole è peccato capito e la Madonna viene e la Madonna e quante di queste anime si perdono così grazie a Bergoglio grazie a questa falsa chiesa che non predica più lo notate non si parla più del peccato è una strategia satanica non c'è niente di vero è una è soltanto una messa in scena questa degli immigrati poveri per sostituire il tema del peccato per cui esiste la chiesa tema del peccato e della grazia e quindi della salvezza delle anime con i temi sociali è solo una messa in scena il regista è Satana non ti chiederò più vitto su questa terra siamo alla seconda traduzione perché questa è la mia veste non ti chiederò più vitto su questa terra perché la mia fame è fame di anime trepidante è il mio cuore per voi non sono belle queste frasi oh guardate tutto dipende poi dalla recezione te vai a Guadalupe in Messico la Madonna ha detto quelle frasi bellissime che si incidono dentro non sto gio a chi che sei tu madre perché hai paura non ci sono qui che sono tua madre te arrivi come è capitato a me a Guadalupe gli hanno fatto un enorme santuario e c'è scritto all'ingresso non sto gio a chi che sei tu madre io penso a Davola bisogna fare un grande santuario e all'ingresso già quando la gente arriva trova la sintesi di tutto il messaggio perché sono le prime parole della Madonna che la Madonna è trovare lì questa frase la mia fame è fame di anime non vi pare che uno arriva lì e già c'è tutta una teologia splendida trovare scritto la mia fame dovevo sapere chi è la Madonna del Pino la mia fame è fame di anime mi pare che sia tutto che spiega l'apostolato di Maria in tutto il mondo in questi tempi e i primi a fastidirsi non sono i comunisti o i mondani sono i bergoiani quelli della falsa chiesa che si prendono gioco della Madonna postina della Madonna donna comune capito di bergoio che va a Fatima e dice preferisco la Maria dei Vangeli alla Madonna che appare minacciando castighi capite e l'altra frase che bisognerebbe scrivere all'ingresso della Madonna del Pino è trepidante il mio cuore per voi siete tutti figli miei dice Giuseppe Pauricchia che dicendo questa frase ha allargato le braccia alla Madonna come nell'immagine di Rui Liubac le braccia allargate e disse aprendo le mani siete tutti figli miei guardate che bello poi la Madonna lo guarda per qualche istante di silenzio immaginate voi io penso che Dio deve dare una grazia particolare per resistere alla bellezza perché io sono sensibile alla bellezza tutto ciò che è bello mi piace immaginarsi quando uno vede la Madonna e la Madonna guardate come conclude questa prima apparizione è bellissima la conclusione non ti ho detto ancora chi sono lo fa apposta la Madonna non ti ho detto ancora chi sono sono attenti bene la donna comune non è vero sto scherzando sono la donna della porta accanto sono guardate come si presenta sono la madre di Dio questo è il titolo con cui si presenta ad Avola sono la madre di Dio pregate 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 ecco qui finisce anche la seconda introduzione delle dieci andiamo alla terza la terza introduzione è quello della croce che trasuda ecco la croce che trasuda in pratica col tempo si diffonde la notizia di queste apparizioni frequenti a Giuseppe Auricchia e come potete immaginare la gente comincia ad arrivare è stato coinvolto particolarmente diciamo il versante orientale della Sicilia ad ogni modo ci sono state apparizioni con migliaia di persone qualche volta si sono contate anche più di 4-5 mila presenti alle apparizioni va bene ecco dunque mettono lì un crocifisso la domenica di Pentecoste dell'11 giugno 2000 accade qualcosa di significativo questa è la terza delle dieci annotazioni dice Giuseppe Auricchia dopo l'apparizione di Gesù notai che dalla croce questa croce di legno che avevano messa lì fuoriusciva dell'olio rimasi turbato e non sapevo che cosa fare presi del cotone e lo misi in modo che l'olio andasse dentro una bottiglia ero confuso e non riuscivo a stare in piedi di fronte a quella vista ecco comunque questo olio viene diffuso e Gesù stesso dà questo messaggio a riguardo dell'olio che trasuda a un certo punto l'11 giugno 2000 Gesù dice sbrigatevi poiché ci sarà presto la grande confusione è quella che stiamo vivendo dopo 13 anni da questo messaggio e i messaggi sono un allarme continuo a mettersi in guardia di fronte alle ai tempi che viviamo sbrigatevi dice Gesù nel 2000 poiché ci sarà presto e nel tempo ancora di vuotivo il grande giubileo ma il Signore anticipa ci sarà presto la grande confusione dappertutto ci sarà il dominio del male e sarà insieme alla grande purificazione nella profondità della mia chiesa e di tutti i suoi membri di tutta la terra e di ogni suo abitato cioè Gesù dice datevi da fare sbrigatevi sta arrivando il tempo della grande confusione e questo lo vediamo che oggi è il tempo veramente della totale confusione della chiesa cattolica ma anche Gesù dice della grande purificazione della grande purificazione nella profondità della mia chiesa cosa significa nella profondità significa nei vertici ecco dovete poi sapere che per oltre dieci anni questa croce di Mammanelli è stata una presenza costante un simbolo quasi una reliquia che i pellegrini che andavano hanno toccato ha carezzato e affidato tante preghiere a causa dell'incuria e del tempo nel 2010 si è spezzata è venuta ed è stata prontamente sostituita con una croce delle stesse dimensioni in ferro ecco questo per quello che riguarda la trasudazione della croce un altro avvenimento diciamo parallelo alle apparizioni è l'olio santo della Madonna del Pino in pratica ad un certo momento a partire dal 2001 esattamente il 26 agosto intorno alle ore 13 la statua della Madonna raffigurante l'Immacolata eccola qui la faccio vedere questa è proprio un'immagine sì Giussi Iannello parla dell'avvertimento hai proprio ragione perché anche ad Avola come a Garabandal vorrei dire che non so se Nino Oliva è d'accordo vediamo se lui è d'accordo visto che è l'esperto che io ho incontrato che ho notato parecchia diciamo affinità da questo punto di vista con Garabandal trovo una familiarità tra Avola e Garabandal perché a Garabandal si è parlato a lungo di grande avvertimento come sapete e dei tre giorni di buio bene è un tema se avrò il tempo che sono già le dice un quarto io veramente guarda vi dico la verità sono tre quarti d'ora che parlo io quando parlo mi sembra che il tempo voli via in modo incredibile poi sono 450 persone in collegamento allora uno dice ma come si fa cioè fra un quarto d'ora devo chiudere come io non finirò mai di fare un argomento completo Santa Pace ecco è un mio problema veramente un mio problema questo ad ogni modo quindi sì la Madonna anche a ad Avola ha parlato di grande purificazione e di avvertimento ecco e in occasione di questa trassudazione dell'olio santo la notte del 25 marzo festa dell'annunciazione del 2007 dunque la Madonna ha detto a Giuseppe Auricchia il seguente messaggio Dio Padre mi manda a voi sulla terra ancora una volta per parlare a voi figli ultimi richiami del cielo a questa umanità guardate come la Madonna definisce l'umanità attuale perversa e incredula ecco perversa e incredula saltiamo adesso e nella parte finale del messaggio viene detto viene dato un messaggio ai sacerdoti con quest'olio che suda la Madonna sapeva che non ci avrebbero creduto di fatto di fatto né il vescovo né i preti del posto ci hanno creduto la Madonna l'aveva anticipato guardate cosa dice a Giuseppe Auricchia sacerdoti e vescovi non fate gli indifferenti di fronte ai prodigi la gente ha paura di parlare per colpa vostra cioè la Madonna dice ci sono quelli che vengono qui ricevono grazie però poi dopo tacciano perché hanno paura di parlare beati voi sacerdoti che con dignità vestite la talare quando siete in talare ai miei occhi siete come il capitano che è fiero della sua divisa anche qui c'è un'affinità si vede che è la Madonna che parla vero? è un'affinità con tre fontane anche con cività vecchia vorrei dire a tre fontane la Madonna lamentava quello che sarebbe accaduto nel 47 ai nostri giorni cioè i preti che tolgono la talare ma cività vecchia la Madonna ha detto i preti sono più belli con la talare ecco vi ripeto anche il significato dell'olio esso fa parte della talare che voi avete abbandonato o sacerdote aggiungi ancora la Madonna raggiungi il tuo fine con la tua opera di consacrato attraverso i sacramenti e soprattutto attraverso il tuo sacrificio eucaristico giornaliero bene siamo già al quinto dei dieci punti introduttivi e cioè che a un certo momento Giuseppe Auricchia protagonista delle visioni riceve le stimmate riceve le stimmate la Madonna e Gesù avevano detto più volte a Giuseppe che quel luogo scelto da Dio Padre dice la Madonna il primo dicembre 2004 la Madonna dice che quel luogo dove andrò mercoledì che è completamente desolato è stato scelto da Dio Padre ma Gesù e la Madonna avevano anticipato guardate la Madonna dice Satana cercherà di distruggere te e questo luogo 7 ottobre 2000 capito? 7 ottobre 2000 e ancora il 27 febbraio 2005 sacerdoti e laici non avete capito che questo luogo santo e benedetto è stato scelto da Dio Padre io parlo da questo luogo al mondo intero ecco l'altro fenomeno che vi stavo dicendo il quinto punto è le stimmate ad un certo momento Giuseppe Auricchia il primo esattamente il primo agosto 1993 ha ricevuto le stimmate è successo che l'han trovato a terra una delle collaboratrici l'ha trovato a terra l'ha visto appunto con le ma vi leggo proprio la tesionanza di questa signora il primo agosto del 93 a Mammanelli trovai disteso per terra e sanguinante alle mani il signor Auricchia rianimatosi completamente Giuseppe Auricchia ringraziato per la mia sollecitudine ma non ha detto nulla di tutto ciò che gli era accaduto soltanto ho potuto fotografare le sue mani piagate con la Polaroid che portavo con me Nino Oliva in questo libro ha fatto un reportage fotografico sono in grado di mostrarvi la stimmata del costato che Giuseppe Auricchia portava eccolo qui questo è Giuseppe vedete la ferita del costato ecco qui in primo piano che si apriva tutti i venerdì lui riveveva la passione del signore Giuseppe ecco e siccome le apparizioni sono iniziate quando lui era già settantenne più o meno la Madonna e Gesù gli dicono te ti chiamiamo come il nuovo Noè ti abbiamo scelto anziano perché tu per noi sei come Noè capito che bella cosa a quell'età lì lui riceve le stimmate sesto punto introduttivo dei dieci il fuoco d'amore il fuoco d'amore anzi è il settimo è già il settimo il fuoco d'amore che significa fuoco d'amore badate bene c'è a un certo punto un problema che si presenta nel febbraio del 2008 sul corpo di Giuseppe Auricchia scotta a bruciore in tutto il corpo questa cosa mi ha molto colpito perché nel numero dei fenomeni mistici la ritroviamo in pochissimi santi penso a San Filippo Neri che quando beveva il calice era talmente arso dal fuoco dell'amore di Dio dello Spirito Santo che lasciava la traccia delle labbra sul calice io ho visto il calice a Roma tutto mangiato perché lui beveva il sangue del Signore arso d'amore allora Giuseppe Auricchia a partire dal febbraio 2008 il giorno tra l'altro delle sacre cederi 6 febbraio ha un'affezione cutanea di origine virale per lo meno questa fu la diagnosi dei medici quella che più comunemente i medici chiamano fuoco di Sant'Antonio così lo definirono Giuseppe Auricchia che era un uomo molto semplice anche se molto deciso si è fidato della diagnosi offerta dai medici che però loro stessi non sapevano spiegarsi alcuni dettagli perché per esempio il fuoco di Sant'Antonio si localizza in un determinato posto mentre lui l'aveva sparso in tutto il corpo per esempio lo sentiva dentro quando torna a casa dopo la diagnosi Gesù gli spiega che cosa è esattamente quello che vive guardate che bello 15 febbraio quindi una settimana dopo no anche sì una settimana dopo Gesù gli dice Giuseppe questo che sotto di te chiamano fuoco di Sant'Antonio è il fuoco della mia croce è il fuoco del mio spirito che si riversa in questi ultimi tempi così gravi soprattutto è questo che mi ha molto colpito 2008 in pieno clima di governo raccingheriano soprattutto per l'Italia tempo dei miei castigli soprattutto per l'Italia dove è iniziato il vero fuoco contro la mia chiesa contro il mio vicario capito cioè Gesù spiega e poi anche negli altri messaggi a riguardo di questo fuoco d'amore che che un fuoco della giustizia divina si sarebbe abbattuto quando avessero costretto avessero costretto Nino Oliva precisa che non è il venerdì di passione quello della foto che vi ho mostrata ma è riferita alla sofferenza del fuoco d'amore a quanto ho capito ecco grazie Nino di questo prezioso di questa preziosa precisazione stavo dicendo che Gesù precisa a Giuseppe che questo fuoco d'amore che lui vive è segno di un altro fuoco e lui dice Gesù un altro fuoco è caduto sul mondo è il fuoco di Satana che cercherà di distruggere la mia chiesa 2008 quindi avviene questo succede il corpo dei mistici dei santi dei profeti a volte è foriero di ciò che accade nella chiesa o nel mondo lui vive questo fuoco che precede il fuoco di Satana che avrebbe tentato di distruggere la chiesa siamo agli ultimi tre punti introduttivi l'aldilà voi sapete che a Fatima la Madonna ha fatto vedere l'inferno ai tre pastorelli di Fatima no? che anche in altre apparizioni Marianne la Madonna ha parlato e ha fatto vedere l'aldilà l'aldilà che per noi cristiani cattolici si configura come paradiso inferno e purgatorio paradiso e inferno sono condizioni eterne il purgatorio è transitoria come esperienza perché è fuoco di purificazione ci siamo? bene allora Giuseppe Auricchia ha visitato tutti e tre questi luoghi ecco ha visitato tutti e tre questi luoghi il 23 febbraio del 1993 la Madonna l'ha accompagnato in questo pellegrinaggio questo pellegrinaggio nell'aldilà dice lui sono le 8 e 50 primo novembre festa di tutti i santi del 2006 mi trovo in chiesa per la santa messa mentre il sacerdote consacra il pane e il vino non vedo più il sacerdote vedo un uomo con i capelli lunghi la barba e due occhi incantevoli mi sembravano distrarmi attorno all'altare un coro di angeli e santi in mezzo a loro vedo un uomo giovane con la barba e vicino a lui mia moglie che era morta da qualche tempo Gesù mi dice rallegrati oggi in questo giorno tu vedi tua moglie loro vedono la luce del mio volto qui in questo luogo santo pregate per i defunti e molti saranno liberati dal purgatorio sempre poi il 23 marzo del 93 quindi qualche anno prima la Madonna dice Giuseppe Auricchia che lo ha portato a visitare il purgatorio dice racconta mi senti prendere per mano e vidi il mio corpo rimanere a terra vedevo che l'anima si allontanava dal corpo arrivamo in un grande campo di ceneri fumanti e una parte era più in basso rispetto all'altra c'era una scalino un gradino accanto alla cenere fumante con tante fiammelle dentro vi erano tante persone vestite di tanti colori c'erano anche sacerdoti e vescovi erano lì mentre un angelo mi prese per mano e disse questo è il luogo della purificazione tutta l'umanità passerà di qui per purificarsi prima di entrare in paradiso sapete che del purgatorio non si parla più ma è una realtà cattolica assolutamente importantissima pregate per queste anime la chiesa infatti insegna a offrire il suffraggio della messa per le anime dei fedeli defunti perché vengano liberate quanto prima dal purgatorio più pregate e più ne salvo specie nel mese di novembre poi viene portato a vedere l'inferno mi portò in un luogo dove le fiamme si alzavano e scendevano questo delle fiamme è una cosa importante è sempre presente il tema delle fiamme e l'inferno anche e santo Maso d'Aquino spiega che la fiamma è reale anche se è spirituale capite ma non ho il tempo di approfondirlo perché mi restano praticamente sette minuti le anime soffrivano anche in purgatorio soffrono però in purgatorio soffrono perché vogliono veder Dio in inferno soffrono di disperazione perché l'hanno perduto per sempre ecco le anime soffrivano e avevano gli occhi spalancati di terrore e di sofferenza gridavano e bestemmiavano questa è una cosa che ho letta anche nelle visioni dell'inferno di Son Lucia di Fatima di Faustina Kovarska e Son Josefa Menendez bestemmiare in inferno e la Madonna le dice le anime che si trovano qui non usciranno mai nel mentre arriva un demonio che ci guarda e scappa la Madonna mi dice vedi guarda come fugge davanti a me che bello questo cioè dove c'è la Madonna non ci può essere Satana ricordatevelo dove c'è la Santa Vergine non c'è il diavolo andammo avanti e finalmente il paradiso e mi portò in un giardino fiorito vi piacciono i fiori allora siete fortunati se andate in paradiso c'erano fiori di tutti i colori tante stradelle e gente che passeggiava dove sapere che i collaboratori questo ne parlavo anche con Nino Liva di Giuseppe Orichi hanno deciso di lasciare più o meno il linguaggio semplice con cui Giuseppe si esprimeva perché era con la quinta elementare pertanto ha un modo di esprimersi come vedete molto semplice ma è stato giusto rispettare questo linguaggio proprio senza artefarlo senza capite farcirlo di non so che la semplicità del linguaggio vedevo dunque andiamo dunque tante stradelle e gente che passeggiava angeli e santi che cantavano l'odi a Dio c'era gioia e bellezza andiamo andiamo mi disse portandomi più avanti in un viale molto largo dove si vedeva in fondo una luce un riflesso enorme andammo avanti verso quella luce e poi mi disse di fermarmi fermati allora vidi dodici uomini non so se fossero santi angeli ma lui non poteva sapere che sono i ventiquattro i dodici che stanno intorno al trono dell'agnello gli apostoli e mi disse vedi quella luce lì c'è mio figlio poi sparì tutto all'istante mi svegliai e mi trovai a terra gli ultimi due aspetti introduttivi riguardano il diavolo nella vita di Giuseppe Auricchia quindi come vedete il messaggio della Madonna del Pino coinvolge pienamente il carisma di quest'uomo morto più che novantenne nel 2012 perché ha avuto tanti fenomeni mistici come state sentendo dalle stimmate al fuoco dell'amore ai messaggi che riguardavano come nessun altro la Madonna ha detto chiaramente quello che è accaduto poi nel 2013 ma anche la lotta col diavolo lui non ne ha mai voluto parlare diciamo in maniera chiara ma in diverse occasioni è stato disturbato pesantemente dal diavolo pesantemente dal diavolo ha avuto degli incontri ravvicinati col diavolo due episodi vi ha raccontati però ve li leggo una sera dopo essere salito sul letto vidi accanto a me una serpe e dall'altro lato un animale con la bocca spalancata vedevo denti grandi quanto un dito al centro tra questi animali c'era un uomo bruttissimo con un pugnale tra le mani poi veni letteralmente buttato giù dal letto e preso a botte dicevo a me stesso dio mio questa volta sono perduto questa volta mi uccide in quell'attimo pensai di prendere la coroncina del mio capezzale la presi e li vidi sparire così come erano apparsi ecco e l'altro episodio avviene mentre si trova in uno dei suoi viaggi come vi ho detto andava in giro per l'Italia poi invitato soprattutto al nord ad Asiago in provincia di Vicenza dice in una stanza mi apparve il diavolo che voleva buttarmi dal quinto piano mi prese per tirarmi verso la finestra ero frastornato e non pensai subito di prendere la coroncina ormai credevo di essere perduto vicino alla porta c'era un sacerdote con una donna che mi guardavano ero ormai vicino alla finestra pensai di essere perduto ma non persi la speranza presi il crocifisso della collana e lo tirai fuori al che il diavolo fu costretto a lasciarmi subito e sparì ma questi sono solo alcuni racconti che Auricchi ha fatto ma la sua vita è trascorsa praticamente di continuo in vessazioni del diavolo l'ultima introduzione delle dieci è il messaggio che io trovo essere stato assolutamente straordinario del 24 giugno del 24 giugno 2006 ecco 24 giugno 2006 ascoltate che cosa dice la madonna in questo messaggio dal titolo la grande apostasia a fatima ho dato messaggi di grande importanza ed essi non sono stati accolti quindi la madonna parte in questo messaggio sull'apostasia nella chiesa come notate parlando di fatima la madonna fa capire che il tema del terzo segreto è appunto l'apostasia aggiunge la santa vergine chi doveva operare non ha operato quello che sempre io dico hanno boicottato insabbiato padre Malachi Martin ha speso una vita lui che era gesuita biblista collaboratore del cardinale Bea che adiva le stanze vaticane fino a quella del romano pontefice quando ha visto che Giovanni XXIII ha chiuso il terzo segreto e non ne ha voluto sentir parlare se ne è andato dal Vaticano se ne è andato a costruirsi una vita nuova rimanendo sacerdote a New York e lì ha scritto dei libri non mai tradotti in italiano dei veri autentici bestseller in lingua inglese nei quali romanzi padre Malachi Martin sottolinea proprio l'esistenza di Satana in Vaticano legata questa presenza di Satana al terzo segreto di Fatima che la massoneria presente in Vaticano ha fatto di tutto per non rivelare e così la Madonna dice a questo umile contadino siciliano chi doveva operare siamo nel 2006 quindi da questo capite la portata di quest'opera straordinaria sarebbe bello Maria Pia Medisadeh se tu so che vivi a Chicago se non ricordo a New York non mi ricordo dove stai esattamente si offre volontaria per tradurre magari faresti un prezioso lavoro e poi tu me lo fai avere e se non mi fanno fuori prima lo pubblichiamo con la casa editrice a cui io mi appoggio in lingua italiana quello che tu traduci dall'inglese devi solo procurarti questi testi ma là dove te vivi negli Stati Uniti negli States non è difficile chi doveva operare non ha operato e il mondo si è riempito di fumo satanico che avvelena acceca e perverte la mente gela i cuori se l'umanità avesse ascoltato le mie parole dunque se l'umanità avesse ascoltato le mie parole e accolto i miei avvertimenti quanto dolore sarebbe stato evitato ti ripeto figlio la Madonna torna sul terzo segreto il segreto di quel messaggio è importante per l'umanità perché l'umanità non è mai stata chiamata al dolore al dolore di quel castigo la schiuma si alzerà sconvolgerà l'Europa che affonderà tutta in una lava di fuoco milioni di uomini e bambini periranno nel fuoco in quel tempo vi resterà come arma il rosario e il segno del mio figlio recitate il santo rosario ogni giorno attraverso i vescovi e i sacerdoti il lavoro del diavolo riuscirà perfino a penetrare nella chiesa non so se avete sentito non è che la Madonna ha paura che la fanno fuori è già in paradiso parla con chiarezza tanto quanto quasi quasi dormi nutella attraverso i vescovi e i sacerdoti il lavoro dice Daniele Messina che la croce è conservata la croce quale croce quella che ha sudato olio dacci più dettagli Daniele perché non so se ti riferisci a questa croce di Avola attraverso i vescovi e i sacerdoti e il lavoro del diavolo riuscirà perfino a penetrare nella chiesa e poi sentite qui quanto è importante cardinali contro cardinali quello che sta accadendo questo è del 2006 questo messaggio vescovi contro vescovi sacerdoti contro sacerdoti tutti in lotta contro Dominute no è tutti in lotta tra loro scappato i sacerdoti che mi venerano saranno disprezzati perseguitati e martirizzati per questo e adesso sentite qui nella chiesa sarà portata a termine la grande apostasia che si diffonderà in tutto il mondo 2008 ormai lo stiamo vivendo lo scisma sarà compiuto come generale allontanamento dal Vangelo e dalla vera fede ancora dopo sei anni il carriere al burke si domanda ma possiamo fare questo scisma ma poi come si fa ma così con la no la madonna nella chiesa entrerà dopo Benedetto XVI non so se vi rendete conto l'uomo iniquo che vergoglio questo è chiaro la madonna non poteva dirlo chiaramente aspettavo che vi cesse Don Minutella che si oppone a Cristo ma infatti a Morisse Letizia è un documento una persona oggi nei giorni scorsi mi ha detto è però una persona che appunto non sta con me mi ha detto è però il Papa non ha detto che si deve dare la comunità ma sono proprio accecati accecati perché poi i vescovi argentini hanno detto per noi Papa Francesco dice che si può dare e lui ha fatto inserire questa interpretazione come quella autentica negli acta apostolici sedis che sono i documenti ufficiali della chiesa perciò lui si è messo Bergoglio il carnet Bergoglio apertamente contro il Vangelo e la madonna lo dice che porterà al suo interno della chiesa l'abominio della desolazione cioè l'uomo iniquo dopo Benedetto XVI introduce l'abominio della desolazione o Giuseppe Auricchia è venuto qui in ispirito a conoscere Don Minutella quando ha parlato della messa invalida o forse Don Minutella ha ragione 2006 introdurrà al suo interno l'abominio della desolazione dando così compimento all'orribile sacrilegio di cui ha parlato il profeta Daniele ecco bene carissimi poi dopo questa era tutta l'introduzione ci sono tutti i messaggi che la madonna e Gesù hanno dato nella seconda sezione di questo libro la parte terza non la seconda la parte terza di questo libro è la più cospicua eccolo qui vedete è quella che riporta diciamo una sintesi notevole dei messaggi che sono tantissimi se uno li vuol conoscere tutti li vuole leggere potrebbe anche guardare il sito ufficiale della madonna del pino ci sono tutti i messaggi ce ne sono alcuni semplicemente sorprendenti dove la madonna ha parlato con molta chiarezza io vorrei concludere stasera con voi questa catechesi così seguitissima non me lo sarei mai aspettato con quello che la madonna dice a proposito del tempo che stiamo vivendo dunque dunque la madonna il 16 maggio 2007 dice figli miei ora potete comprendere meglio perché vi voglio riunire recitando il rosario Gesù è la vostra forza in questa lotta contro il demonio satana vuole demolire tutte le anime scelte nemmeno uno verrà risparmiata esse saranno i nuovi discepoli che un giorno non lontano testimonieranno la verità di Dio anche di fronte al teatro della morte della legge del falso Cristo il mio corpo mistico non sarà violato se si tocca il mio sacro cuore questo sarà il dolore della divisione state uniti vicino al mio cuore siete voi tutti voi che vivete in me io sono la vostra vita e poi ancora davvero l'ultimo messaggio mi scuso con voi ma voi potete capire molto bene questi messaggi come sono così forti e fanno intendere i tempi che viviamo ecco l'ultimo vediamo se lo trovo subito del 2007 se non ricordo male la Madonna parla ancora una volta della apostasia nella Chiesa e del tempo della infedeltà vediamo se lo trovo spero di sì dunque allora allora non mi ricordo più dove l'ho messo peccato ecco fosse qui non vi addormentate bene fratello non lo trovo più pazienza ad ogni modo in questo messaggio la Madonna parlava proprio di Gesù e la Madonna parlano di Benedetto XVI che viene messo alla prova e deve resistere finché può per combattere l'impostura ecco spero di aver fatto un quadro completo di questo splendido messaggio di Giuseppe Auricchia della Madonna del Pino ad Avola dove mercoledì prossimo a Dio piacendo mi richierò per recitare in diretta su Radio Domina se Dio vuole se la Madonna mi accompagna alle 11.30 circa del mattino il santo ecco Nino Oliva dice pagina 36 la prendo subito ah sì questo è quello che avevo letto poco fa sì sì quello sì questo è quello della grande apostasia sì l'ho letto poco fa sì sì bene allora sono tutti voi per intercessione alla Madonna del Pino la benedizione di Dio Onnipotente Padre Figlio e Spirito Santo Amen grazie a tutti voi così numerosi che ci seguite sia lodato Gesù Cristo e avanti con Maria